Allora, vi presento Serena Piccioni, attenzione ragazzi, Gloria, sta attenta. Allora, Serena ha cominciato la sua carriera da sviluppatrice nel 98 e ha iniziato poi a lavorare con WordPress dieci anni dopo. Nel 2015 si è trasferita a Londra, ora lavora per Helpful Design e mi ha raccontato, digital, scusate, non mi torno in mente, e mi ha raccontato proprio ieri sera che la sua azienda gli ha dato una settimana come di ferie all'interno che continuavano a lavorare per poter sviluppare dei nuovi progetti all'interno dell'azienda e da una di queste sessioni appunto è nato questo progetto di cui ci parlerà, quindi iniziare a sviluppare con Timber e Twig. Lascio subito la parola a lei. Buon pomeriggio, allora, mi chiamo Serena appunto, quelli sono i miei contatti se doveste aver bisogno dopo questa presentazione, su Github, su Twitter mi trovate come xlthlx, tendenzialmente mi trovate ovunque come xlthlx e quella è la mia mail. Allora, come ha detto Caroline, io lavoro per un'azienda che si chiama Food Digital, noi abbiamo circa un centinaio di siti WordPress, non siamo un'azienda enorme, però comunque abbiamo un'organizzazione interna e quindi siamo divisi in sviluppatori, designer, abbiamo un app desk, abbiamo ovviamente un PM. E quindi spesso e volentieri ci capita di chiederci quali possono essere i nostri processi interni, perché appunto avendo questa divisione è strettamente necessario. Una delle cose che ci siamo chiesti è stato qual è il modo migliore di sviluppare un tema. La mia personale opinione è che in generale non c'è un modo migliore, non esiste il linguaggio di progazione migliore oppure il CMS migliore o qualsiasi altra cosa. Più che altro la verità è che dovremmo conoscere le varie alternative, quindi per un determinato contesto, sapere qual è il linguaggio migliore, piuttosto che il CMS migliore WordPress è molto bello perché è estremamente flessibile e si presta moltissimo a fare molte cose diverse. Ma ovviamente non è l'unica alternativa e potrebbe essere che in qualche modo c'è un CMS migliore per quello che dobbiamo fare. E quindi veniamo al dunque. So che siete stanchi, è un po' tardi, però spero che se vado troppo nel dettaglio alzate la mano. Allora questa è la classica pagina, in questo caso single ma in realtà è la singular, è 20 tenti e quali sono le parti più importanti di questa pagina che poi è quella con cui visualizziamo il dettaglio del nostro port. L'header, il footer, ovviamente il loop di WordPress e come vedete in questo caso c'è un'inclusione, anzi un require, di un altro file. Ah, e fino a qui tutto bene, nel senso è abbastanza semplice, è abbastanza chiaro, niente di strano. Andiamo a vedere invece, scusate, la content. La content inizia a essere già un pochino più impegnativa, ok? Tra l'altro, non so se notate, ma qui ci sono un sacco di inclusioni di nuovo con il get and play part. In alto abbiamo l'entry header, che in questo caso è semplicemente il titolo. Poi ci sono una serie di condizioni. Poi c'è l'afficio di l'image che recupera l'atam nail, se c'è un atam nail. Abbiamo all'interno il contenuto. E infine, questo entry author bio è sostanzialmente l'autore. Se non ricordo male, dovrebbe esserci anche il link all'autore, che è un link particolare di WordPress. Che cosa succede se però iniziamo a inserire un po' di funzionalità? Succede che vorremmo non aver mai visto quel codice, sostanzialmente. Non so voi, ma a me è capitato spesso e volentieri di trovarmi di fronte a cose di questo genere. Non cercate di leggerlo perché è impossibile. E sono, in questo caso, più di 200 righe di codice, tutto insieme, no? WordPress si presta un attimino a questo genere di cose. Perché? Perché c'è una commissione di PHP, HTML. E quindi per definire determinate cose non c'è verso. Bisogna comunque fare un po' di spaghetti code. E quindi ci vorrebbe un miracolo, fondamentalmente, per riuscire a interpretare questa cosa. Oltretutto è molto difficile da mantenere. Il miracolo, quasi, nel senso, uno dei miracoli che possiamo utilizzare è Twig. Allora, io adesso vi faccio vedere velocemente. Questa è la single Twig, ma se vedete, praticamente tutto quello che abbiamo visto prima nella singular PHP e nella content PHP di 2020 è riassunto qua, perché header e footer non li vedete perché è un altro modo di gestire queste cose. C'è un'estensione. Però poi trovate la thumbnail, il title, quindi poi l'autore e il contenuto. Esattamente come le altre due pagine. Però questo è soltanto HTML e in mezzo c'è Twig. C'è il trucco. Nel senso, il PHP dove è finito? Ovviamente. Il PHP è qui. È tutto qui. Nel senso, non avete bisogno d'altro. Questo ovviamente è semplicemente la single PHP. Quindi è di default di WordPress e questo è quello che viene fornito da Timber. Ok? Adesso ci torniamo. Scusate. Allora, Twig. Twig originariamente è nato con Symfony, che è un framework PHP, ed è un generatore di template, semplificando moltissimo. Ed è basato su, se qualcuno di voi lo conosce, Jinja di Django in Python. Timber che cos'è? Semplicemente, Twig letteralmente è il ramoscello. Timber è il legname, ovvero è il collegamento tra WordPress e Twig. Questo è stato sviluppato da una web agency che si chiama Upstatement, che però lo rilascia open source, quindi potete tranquillamente utilizzarlo nei vostri progetti. Allora, quali sono i vantaggi? A parte quello che abbiamo visto. Sicuramente è semplice da gestire se sia in team. Quindi, nel nostro caso, spesso e volentieri, noi dovevamo lavorare in tempi diversi o contemporaneamente sulla stessa cosa. Quindi, cosa succede? Che spesso e volentieri, usando Git, conflitti. E invece, con questo sistema, utilizzando il PHP, staccato dall'HTML, ovviamente si può lavorare in contemporanea su due cose completamente differenti, il back-end e il front-end, senza pestarsi i piedi, fondamentalmente. Poi, abbiamo visto, è anche semplice da mantenere, proprio per questo motivo, perché se qualcuno, uno dei tuoi clienti, decide che deve cambiare un pixel in un'immagine, è molto più semplice andare a trovare quel pixel in un file dove c'è solo HTML che non in un mix, come abbiamo visto prima. è anche efficiente e veloce, nel senso che, in realtà, TIG è abbastanza conosciuto da chi sviluppa con Symfony, perché è estremamente veloce nel fare il rendering del front-end. Quindi, non vi dovete preoccupare del fatto che questa cosa appesantisca il vostro tema, ma assolutamente no, anzi, tendenzialmente è più veloce di prima, quindi, sicuramente. E, arriva anche con una cosa molto interessante, ovvero, è più sicuro. Perché? Perché ha un sistema interno con cui voi potete sanitizzare completamente tutte le stringhe e, ovviamente, diciamo che cerca di capire qual è la risposta migliore rispetto ai dati che gli vengono dati. Quindi, se per caso, per esempio, manca qualcosa, Twig lo sa e semplicemente non vi dà un errore. Ve lo darà se attivate il debug, ma non vi dà un errore. Semplicemente non la fa visualizzare, il che è molto utile. E poi, è flessibile ed espandibile, nel senso che è un linguaggio, che vuol dire che, come PHP, si può espandere. Se avete delle esigenze particolari, potete scrivere del codice per riportarlo direttamente nei vostri temi. Non solo. È facile anche da estendere letteralmente. Nel senso, io posso avere un primo template che estendo in un secondo template, che estendo in un terzo template. Il motivo per cui si chiama Ramoscello, fondamentalmente è questo. Allora, installare Timber non è difficile, nel senso che semplicemente basta installare il plugin, oppure, se volete, se utilizzate già Composer, potete semplicemente installarlo in questo modo, facendo un require. Chi di voi usa Composer? Se posso? Ok. Molto bene. Invece, ovviamente non basta, nel senso, non è che dopo di che siete a posto e non dovete fare più niente. Teoricamente potreste utilizzarlo insieme ai temi che avete già. però questo vuol dire che vi dovete creare voi la vostra struttura che poi vi faccio vedere. La cosa migliore per iniziare da zero è lo Starter Team che è sempre di app statement, molto carino, molto semplice, estremamente per una persona che comincia va benissimo. Che può essere, lo potete scaricare da GitHub e poi lo installate in WordPress, dopo il scontato che lo sapete fare, oppure lo clonate da GitHub. Ci sono altri temi, ce n'è uno nei link alla fine della mia presentazione, però comunque tendenzialmente questo è il migliore proprio perché è fatto dall'azienda che l'ha pensato, quindi l'ha fatto sicuramente molto bene. La struttura che vi trovate di fronte, allora a sinistra trovate la classica struttura di WordPress, niente di nuovo, assolutamente, tema di WordPress con l'archive, l'outor, le functions, l'header, il footer, eccetera, ok? Questo dovrebbe essere una cosa abbastanza normale per chi sviluppa template. Cosa c'è di diverso? Semplicemente una cartella che vedete a destra che si chiama templates e che contiene tutti i file twig che non necessariamente ma nella maggior parte dei casi si chiamano esattamente come le le pagine PHP. Non necessariamente perché come mi dicevo tu puoi estendere un twig quindi puoi segmentare ovviamente tutti i tuoi template come preferisci. Ovvio che sia da questo punto di vista che dal punto di vista del semplice codice l'idea è di non andare a finire dagli spaghetti alle lasagne cioè di fare troppi strati di codice oppure di fare troppi strati di template questo ovviamente sta alla persona che fa programmazione. Allora questo è quello che otterrete installando prima timbre e poi lo starter. Io ho usato un plugin che si chiama FakerPress non so se l'avete mai usato che vi crea una serie di post a seconda dei criteri che gli date e come vedete è estremamente scarno perché in realtà l'idea è che poi voi ci inseriate i vostri CSS il vostro HTML quello che vi serve quindi è una base non è neanche un framework è proprio una base come diciamo come si presentano dei temi che sono stati fatti in Timber e Twig nella realtà si presentano come questo questo è preso dal sito ufficiale di Timber Unicef UK è un sito come gli altri assolutamente stessa cosa questo è uno dei primi progetti che abbiamo fatto no il primo il primissimo progetto che abbiamo fatto che non ha niente di strano o di particolare vediamo allora un po' più nel dettaglio come funziona Twig io vi faccio vedere alcuni esempi dopodiché in realtà Twig ha una guida meravigliosa ci sono tantissimi esempi di codice perché comunque sono tanti anni che c'è quindi in questo caso vediamo come Wordpress se io dovessi recuperare un'immagine dalla sorgente in questo caso e il titolo del post come testo alternativo avrei le tre righe sopra cioè mi vado a recuperare l'idea del post scusateli della thumbnail da quello l'url della thumbnail e poi lo scrivo invece Twig semplicemente dice ok la source è post thumbnail source e invece il titolo è post title fine ok semplicissimo guardiamo un po' più da vicino la single scusate un attimo ma ho un problema di ok come vi dicevo non c'è un header e un footer perché perché questa pagina qui estende questo template estende il template di base come intanto con la dichiarazione in alto extends based dot twig e poi quello che vedete tra block e end block content il nome content è arbitrario come se fosse una variabile tutto questo nella base naturalmente non c'è lo descriviamo in questo single tag come preferiamo noi e se vedete appunto c'è una thumbnail che abbiamo visto prima post thumbnail source in questo caso quella è sintassi di twig che gli dice fammi un resize a 1200 per 100 pixel queste sono funzioni molto simpatiche molto carine che semplificano la vita tantissimo non devo non devo stare lì dimmi ma puoi dirgli di fare un resize ovviamente l'immagine deve essere più grande di quella dimensione ovviamente e stessa cosa per post link post offer path eccetera eccetera e continuiamo così vi faccio vedere meglio la single PHP perché così iniziamo a parlare di contesto allora Timber cosa fa per agganciare WordPress al Twig utilizza il contesto questa è una sintassi abbastanza semplice come vedete perché all'inizio dice vai a prendere il contesto di Timber seconda riga cosa ci metto nel contesto di Timber ci metto i miei post ok quelli che ho preso dal mio database e poi dico appunto definisco il context post come quei post che ho tirato fuori dal database infine qui allora quella sintassi è un po' più complicata perché va a prendere va a considerare sia una pagina di blog che abbia la password oppure questo ovviamente è WordPress oppure tutte le single che sono di un certo post type con un certo slug con un certo id oppure io non so cosa sia e allora c'è la basicamente la single twig e dice fai il rendering usando il context ok cosa vuol dire tutto ciò questa scusate sì questa qui è la base abbiamo visto abbiamo detto prima la single tig estende questa questo template e qui ancora di nuovo ci sono degli include in questo caso del ladder e se vedete in centro c'è il nostro blocco di contenuto ma non c'è niente semplicemente non c'è contenuto dopo di che io posso ridefinirlo tutte le volte che voglio l'altra cosa interessante di twig appunto è che si possono fare gli include sono include né più né meno come PHP cambia soltanto un pochino la sintassi e infine che io posso utilizzare direttamente le funzioni di wordpress usando function in questo caso è function vip footer quindi se mi dovesse servire per un motivo qualsiasi di utilizzare direttamente una funzionalità di wordpress ce l'abbiamo direttamente in questo modo allora questo sostanzialmente è quello che vi dicevo prima è il flusso da gli oggetti di wordpress timber li converte in un contesto un array di dati che viene passato a twig cosa succede se io devo estendere twig il famoso esempio di prima dove volevamo non vedere la pagina questo per esempio è un loop per mostrare gli articoli correlati hanno un articolo principale la classica il classico footer dopo il post che è relativamente semplice se guardate bene la cosa interessante è che ovviamente posso utilizzare condizioni in questo caso if related poi vi faccio vedere dove viene quel related e poi dice se esiste per esempio l'immagine allora scrivi l'immagine oppure fammi semplicemente un'intestazione dammi il titolo ah ok e l'url non lo trovavo perché all'inizio item url ok ci sono sostanzialmente tre cose che io vado a gestire in questa pagina come faccio a farlo in realtà l'unica cosa che devo fare è dirgli che nel contesto related come abbiamo visto prima la pagina si chiama all'inizio io dico se esistono i related e il contesto related lo definisco nella PHP allora in questo caso io ho preso una funzione buonanissima funzione ok ma in realtà qual è la cosa bella che io posso fare un dammi cosa vuol dire semplicemente definisco un array dove vado a mettere tutti i miei contenuti perché questo è molto importante perché se io sono un designer e ho una minima conoscenza di twig posso cominciare a disegnare il mio template utilizzando questa sintassi qui e io otterrò esattamente quello che mi serve ovviamente è un dammi non è la pagina finita però lo posso utilizzare in questo modo oppure posso fare come abbiamo visto prima una funzione ma in questo caso cosa fa? esattamente come prima tira fuori un un array un array di dati in questo caso specifico in realtà non so se lo utilizzate o l'avete mai visto utilizza advanced custom post type e quindi get field va a recuperare un repeater però potrebbe essere qualunque cosa non c'è necessità di seguire una specifica sintassi basta che alla fine ci sia un array di dati io avrei anche concluso diciamo questa breve introduzione ovviamente come dicevo ci sono tantissime risorse a proposito di Twig ce ne sono ancora specifiche per Timber la cosa interessante di questi link il primo è un altro tipo di starter template che si chiama branch è stato è un fork dell'altro starter e sostanzialmente è basato su bootstrap se volete utilizzare bootstrap c'è una guida che è il secondo link passo passo su come utilizzare Timber e infine il cheat sheet di Twig che è Timber anche quello è estremamente utile perché sono poche paginette però vi dà l'idea di cosa potete fare molto velocemente con Twig e Timber io vi ringrazio grazie mille Serena allora c'è qualche domanda ciao scusa ho seguito tutta la presentazione e avevo solo un dubbio più che altro di quello che stavi di quello che stavi facendo è morto non importa sono io che faccio interferenza scusatemi dicevo non ho compreso come avviene realmente l'interpolazione l'interpolazione dei template facciamo se vuoi rispondere da qua eh se lo specifico ho detto per esempio del single single Twig dove appunto dicevi non la memo è ma la memo futta ok poi nel base qui non io poi poi possiamo dire il punto di segreti che può essere in una della data allora forse ci prego una slide esatto ah sì questa ok esatto Twig a Twig gli dici quale template di base va a estendere puoi anche non farlo ovviamente cioè se il base non lo farai vedi che c'è il block content subito dopo ok sì esatto io potrei chiamarla pippo è uguale lo stesso e all'interno di questo io posso metterci quello che voglio ok io lo dichiaro se guardi al in mezzo dove c'è sorry no content esatto quindi esatto esatto vedi che anche all'inizio c'è un include html header Twig eccetera c'è un block head and block perché lo definisco e lo definisco vuoto perché mi servirà in altri template di Twig è uno slot bravo esattamente una domanda veloce noi utilizziamo Sage come starter team con Bedrock la differenza tra i due perché ho visto che comunque come sintassi in certi casi si assomigliano meglio uno meglio l'altro è un'alternativa giusto per confrontare un po' e capire se siamo comunque su una strada parallela o cosa ma in realtà io non conosco benissimo Sage nel senso che non l'ho mai utilizzato per progetti business so più o meno come funziona quello si è sempre una questione di necessità nel senso va benissimo che lo utilizzi non non è esattamente necessario dipende da da quali sono le tue esigenze se voi siete strutturati utilizzate git come ho detto prima eccetera forse questo tipo di sintassi vi risulta un po' più semplice sì io ho visto il mio grafico di fiducia che ha imparato in tempo zero utilizzare Twig e lo usa molto volentieri proprio perché non dico banale però siamo lì se voi utilizzate già Sage da tanto tempo probabilmente non mi conviene cambiare esatto in un altro modo sì certo si può usare Bootstrap si può usare Tachions Foundation qualsiasi cosa posso includere funzioni PHP dentro al file Twig no sì 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 guarda è proprio lì in fondo se tu guardi verso la fine dove c'è il footer c'è un function di footer ad esempio prima vedevo che la thumbnail la chiamavi smontando tutto quindi andando a ricreare l'HTML image search alt esatto invece che usando il predefinito di WordPress depost thumbnail quindi così perdi però l'utilizzo dei filtri esatto se le zload quelle balle lì se fatte tramite plugin le devi rifare da zero e quindi c'è il vantaggio ad esempio rispetto a queste cose che vado a perdere qual è? no non le perdi perché le puoi comunque dichiarare come vedi lì semplicemente gli dici guarda questa è una function di WordPress ok quindi doppia parentesi graffa function e tra parentesi qual è la function che stai recuperando gli puoi dare degli argomenti anche non è che esattamente come in WordPress ok quindi no non perdi da questo punto di vista io ho fatto un esempio con l'immagine in quel modo perché ti fa un po' iniziare a capire che cos'è il contesto perché il contesto in questo caso è sempre post scusate e e all'interno di quel contesto tu hai tutti gli oggetti che ti servono già disponibili e questo ti può semplificare molto la vita se stai diciamo facendo cose abbastanza base poi ovviamente estendere il tutto ci sono tanti modi grazie ciao grazie ne ho tre di domande va bene lo stesso sono brevissime volevo capire il tema base il tema lo starter team è un tema che contiene già i vari template file o sono cose che devo andarmi a creare io cioè posso fare un child dello starter team o vado a lavorare direttamente su quello no vai a lavorare direttamente su quello teoricamente tu potresti prendere diciamo parte dello starter team e inserirlo nel tema che hai già ok adesso sono confusa l'idea è che comunque tu abbia la possibilità di di sviluppare autonomamente tutta la logica del del template ok quindi non è proprio una cosa per per principianti anche se loro dicono di sì però l'idea è io anche il mio template già fatto ok vado a installarmi timbre e poi comincio a fare a prepararmi i template di twig ma sulla base del mio template quindi vado a prendere l'html e lo sposto ok quindi sì è una cosa manuale non è una cosa che è già fatta io posso utilizzare pronta come come fosse un un altro tema non è come understrap per esempio understrap posso fare mi faccio un child di understrap e quindi ci metto tutta la la parte grafica come voglio ma c'è già tutti i miei template file per il single per l'archivio esatto esattamente non è non è una cosa del genere assolutamente no volendo in realtà partire dallo starter l'ideale sarebbe aggiungerci quanto meno il proprio framework CSS e poi ovviamente a seconda delle esigenze javascript o quant'altro e infine farsi le proprie funzionalità nel caso come per esempio gli articoli correlati aggiuntive rispetto a quello che trovi nello starter time questo sarebbe l'ideale ok però puoi anche fare il processo inverso puoi anche utilizzarlo estendendo il tuo tema già fatto è curioso gli andrò a dare un'occhiata l'altra domanda non c'entra moltissimo hai detto che hai riempito i contenuti con un plugin gli articoli che hai fatto vedere nello starter team si si chiama faker press ok grazie siamo ancora magari 5 minuti di tempo se qualcuno vuole chiedere sì buonasera io volevo sapere questo prima hai detto che il tuo grafico di fiducia è riuscito a utilizzare questi due strumenti ma aveva qualche nozione di PHP o era proprio no lui di PHP non capisce nulla ci prova ma non ce la fa per cui non è necessario capirne qualcosa per riuscire a fare di empleo questi strumenti scusami tu che sei developer sei felice perché lavori soltanto sul back end e te lo puoi gestire come vuoi indipendentemente dal front end tu che sei designer ti puoi gestire il front end come vuoi indipendentemente dal back end è proprio la sua diciamo forza e imparare la sintassi di Twig se hai una vaga idea di che cos'è un if un ciclofor cose del genere è meglio però è anche una cosa che puoi imparare usando Twig ah ho capito ci sono migliaia di esempi quello di scorso ah ho capito la documentazione è veramente molto vasta e molto chiara va bene va bene grazie qualcun altro ancora domande domande 1 domande 2 domande 3 niente va bene allora facciamo ancora un grandissimo applauso e un grazie a Serena ci rive